si sente molto spesso dire ai giovani d'oggi non hanno più una morale a questi giovani d'oggi beh non so se la cosa ti può sorprendere ma ai giovani d'oggi si diceva già più di 2000 anni fa ai tempi di socrate quindi è una cosa che ci portiamo dentro comunque in ogni caso non sarà forse perché sentendoci vecchi invidiamo un po i giovani d'oggi vorremmo anche noi tornare indietro nei tempi ed essere altrettanto giovani e poi questa nostra morale siamo sicuri che sia veramente degna di continuare in eterno non è forse meglio che i giovani abbiano anche delle morali diverse e qui cito giorgio gabber nella sua canzone non insegnate ai bambini non insegnate ai bambini non insegnate la vostra morale è troppo stanca e malata potrebbe far male grazie a tutti grazie a tutti